Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Da questa sera per diversi appuntamenti, compresi anche quelli del venerdì, nella trasmissione I Fatti e Le Opinioni, inquadreremo inevitabilmente sempre più la principale scadenza politica che è all'orizzonte all'inizio dell'anno prossimo, nel mese di marzo quasi certamente, le elezioni regionali, con ospiti che approfondiranno i temi e soprattutto presenteranno anche le loro proposte in attesa poi che si entri nel vivo della campagna elettorale. Iniziamo oggi con il Partito Democratico, con il capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci. Buonasera Paolucci, grazie di aver accolto il nostro invito, lo facciamo con il PD perché oggi naturalmente è una giornata in cui la notizia politica del giorno è quella relativa alla vostra coalizione, Paolucci, in cui c'è il momento della presentazione del candidato governatore Luciano D'Amico e c'è soprattutto l'idea di questa compartezza per la quale lei personalmente, proprio delegato dal Partito Democratico, ha lavorato in queste settimane. Allora, come si è arrivati alla giornata di oggi alla scelta della candidatura di Luciano D'Amico? Tra le tante c'è anche, per esempio, la sua, di quelle di cui abbiamo parlato sui giornali e in televisione in queste settimane. Ma allora, intanto vorrei ringraziare tutte le forze politiche che hanno dato vita a questa aggregazione che l'abbiamo chiamata Abruzzo insieme, adesso vedrà il candidato presidente che oggi ha proposto un patto per l'Abruzzo di denominare in via definitiva, ma il punto è, ringraziando tutte le forze politiche, che il prerequisito, non è una condizione sufficiente, ma il prerequisito per sfidare gli avversari, e in particolar modo Marsilio, è costruire una coalizione ampia che parta da una valutazione comune sugli anni di Marsilio e poi, prepari, predisponga, proponga un progetto per l'Abruzzo. Questo è il dato. E questa accelerazione, anche grazie ai colleghi capigruppo, è avvenuta nel corso dell'estate, siamo arrivati all'appuntamento, al giorno clou, il giorno della presentazione del nostro candidato, Luciano D'Amico, era la migliore, ed è la migliore risorsa per noi, per quanto riguarda la sfida da aprire a Marsilio, e penso che sarà il miglior presidente per l'Abruzzo. Allora, partiamo dalla coalizione. Chi c'è dentro al momento, chi c'era all'inizio, chi è rimasto fino alla fine, chi si è sfilato, chi siete? Ma intanto ci sono tutte le forze politiche, dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva, passando per il Partito Democratico, più Europa, il Partito Socialista, tutte le forze civiche che hanno dato vita, per esempio a Teramo, nella provincia di Chieti e anche negli altri luoghi d'Abruzzo, a quelle proposte, a quei progetti che sono risultati vincenti anche rispetto a un fronte, quello della destra, che in questi anni è stato molto solido e forte. Attendiamo ovviamente le riflessioni che sono nel campo del cosiddetto Partito di Calenda, di azione, siamo ragionevolmente fiduciosi anche per il modo inclusivo con il quale abbiamo lavorato in queste otto settimane di poter aggiungere anche azione. E comunque rivolgo l'appello al Partito di Calenda perché si aggreghi rapidamente. Silvio Paolucci c'è stato un momento in cui ha pensato di essere lei a doversi farsi carico della candidatura a governatore per il centrosinistra. Sono molto sincero, non l'ho ritenuto mai molto probabile per via del fatto che mettere insieme una coalizione tanto eterogenea, voglio solo ricordare che le forze che oggi danno vita a questo patto per l'Abruzzo sono state in contrapposizione fino a qualche mese fa alle ultime elezioni politiche. è chiaro che in un contesto simile una candidatura più di parte aveva qualche problema in più, fosse il mio nome piuttosto che un altro nome di un altro partito componente, il progetto per l'Abruzzo. La sfida vera però è quella di rilanciare una regione per la quale purtroppo Marsiglio ha fatto ben poco e noi abbiamo conosciuto arretramenti da ogni punto di vista, dalla perdita di popolazione, una migrazione giovanile imponente, dalla perdita di occupazione alla perdita dell'offerta sanitaria per i tanti e le migliaia di pazienti abruzzesi e famiglie abruzzesi. Abbiamo tanto, troppo da dover fare per migliorare il quadro disastroso che ci lascia Marsiglio nonostante quell'alleanza stretta con il partito di Fratelli d'Italia e quindi con il Premier. Purtroppo Marsiglio è stato più un uomo di partito che il presidente della regione Abruzzo. Basta ricordare alcune intese che ha dato al Governo nazionale sono scandalose, gridano vendetta a partire dall'autonomia differenziata, sarebbe un salasso a partire dalla sanità e per gli altri servizi per tutta la nostra regione, per il centro-sud, per la regione Abruzzo e per le aree interne. Eppure, poiché è uomo di Fratelli d'Italia, non gli è interessato più di tanto essere il presidente degli abruzzesi ma essere l'uomo di Fratelli d'Italia. Ecco, ultima domanda di tipo personale. Lei è stato ribattezzato da noi giornalisti, in particolare sulle colonne del quotidiano il centro con l'appellativo del Sarto, perché aveva appunto questo ruolo di cucire insieme le varie anime della coalizione. Pensa di avere un ruolo di questo tipo anche nel corso di questa campagna elettorale, al fianco di Luciano D'Amico, insomma, probabilmente per queste doti di mediazione che le sono state riconosciute. Guardi, mi ritrovo molto in quella definizione che ha dato il giornalista del centro, che saluto, Lorenzo Colantonio, ma che definisce intanto una grande scuola che in Abruzzo c'è, quella appunto dei Sarti. Ne dà la grandezza di un lavoro umile come quello tra l'altro a cui provengo come famiglia. Mio padre è carrozziere, mia madre è casalinga, quindi non è... e si addice, secondo me, a un lavoro certosino che è stato fatto, del quale sono uno dei protagonisti, magari un protagonista evidente per i democratici abruzzesi, poi ci sono stati i colleghi a fianco a me e quindi mi riconosco in quella definizione e ovviamente, come tutti i Sarti, sono a disposizione del candidato presidente a definire anche il vestito su misura per il candidato presidente quando gli chiederà consiglio. Laddove mi dovesse chiedere eventualmente, evidentemente, una candidatura, a quel punto è chiaro che il mio ruolo sarà più quello di candidato per ovvi motivi, ma sicuramente e certamente non risparmierò alcun tipo di consiglio né allo stesso tempo mi risparmierò nel sentire i consigli che Luciano D'Amico mi vorrà dare. Un altro tema legato alla rappresentazione mediatica di questo avvio di campagna elettorale, perché insomma noi abbiamo dato una lettura di una situazione per la quale Marsilio, con una coalizione che già gli ha riconfermato la fiducia in tutte le sue componenti, è già avviato da settimane in campagna elettorale, addirittura da mesi, ha visitato tutti i comuni abruzzesi, quindi aveva la certezza del riconfermo. Abbiamo associato questa idea e questa realtà a una sensazione di ritardo da parte della coalizione del centro-sinistra. In realtà mancano diversi mesi alle elezioni, quindi contate di recuperare, vi sentite sul passo del cronoprogramma delle cose da fare in vista delle elezioni? Guardi allora sono molto sincero, intanto io di questo ne sono orgoglioso, ho spinto molto per accelerare e abbiamo ben sei mesi di fronte, non sono pochi. In passato non ricordo che gli sfidanti si conoscessero a sei mesi dall'appuntamento elettorale. Dopodiché tutti i presidenti uscenti, atteso che la Lega non mi pare abbia già detto Marsilio per noi è ricandidato, ma fa parte del gioco di conflittualità e competizione interna tra Fratelli d'Italia e la Lega. Però tutti i presidenti o i sindaci uscenti sono in campagna elettorale da anni perché sono appunto uscenti. Voglio però sottolineare che questo giro che soltanto si riduce una foto opportunity dentro le sale dei consigli comunali, che dirà 10 minuti, ho visti i suoi giri per i comuni abruzzesi, è arrivata a fine mandato. Lui non ha mai girato i comuni abruzzesi. Lo stanno conoscendo adesso e lo conoscono 4-5 persone in consiglio comunale. I cittadini che opinione hanno di Marsilio? Io penso davvero negativa. A partire da tutti quei cittadini che per avere una diagnosi i tempi si sono raddoppiati e anche per la specialistica ambulatoriale oggi devono andare fuori regione, così come per tanti interventi, quelli complessi e anche quelli meno complessi. Di questo dovrebbe rispondere Marsilio? O dovrebbe rispondere dei voli persi per Pescara? A Pescara? Per Torino? Per Milano? Per Barcellona? O delle grandi opportunità sulla Pescara-Roma per quanto riguarda la ferrovia? Anche questa persa nonostante le risorse? O quelli sottratti dal Fucino al porto di Ortona? Di questo deve rispondere Marsilio? Che ha fatto Marsilio per l'Abruzzo? Zero. Il tema della sanità che lei ha accennato è uno dei punti su cui si è accesa una forte polemica, in particolare riguardo all'ospedale di Teramo in queste ultime giornate. Ecco, al di là della questione dei fondi, che poi è una questione fondamentale, dove verrà realizzato secondo lei il nosocomio di Teramo? Intanto non verrà realizzato fino a quando non trovano le risorse. 120 milioni di euro le ha messe a disposizione il centro-sinistra. Dapprima con il governo Gentiloni sul sisma che ha riguardato in quel caso gli stanziamenti per Teramo e Penne, cratere sisma Centro Italia 2016-2017, e poi con le risorse del Conte 2, PD 5 Stelle, ulteriori 40 milioni, 80 più 40. Il centro-destra ha messo zero. E quale tipo di polemica attiva contro il Comune sulla localizzazione? Peraltro il Comune si è espresso due volte, definendo 4-5 aree, se non ricordo forse erano 5, in una prima delibera e successivamente definendo Villa Mosca, quindi il Comune si è espresso. Ma la verità è che Marsilio fa tante chiacchiere, tanta politica, tanta propaganda per Fratelli d'Italia, la sua origine destrorsa si riconosce anche nei suoi modi di fare campagna elettorale e pochi fatti, perché di soldi a Teramo ne ha portati zero, forse perché non è un Comune amico. E il piano di riordino della rete ospedaliera sta su chi l'ha visto. Riuscirà a andare in porto per questa legislatura? Sta su chi l'ha visto. Questa è la prima giunta regionale della storia della regione Abruzzo che non ha approvato il piano di riordino della rete ospedaliera. Però l'ha approvato il governo? Non l'ha approvato il governo, ha fornito in 5 anni qualche parere, dei pareri che evidentemente, poiché ho letto il comunicato dalla giunta regionale Marsilio, bisogna rifare una nuova delibera di giunta regionale, parliamo ormai degli ultimi 5 mesi di governo, quindi stiamo parlando solo di propaganda, non verrà fatto nulla, né applicato né eseguito nulla, dovranno riformulare una delibera per accogliere i pareri che evidentemente erano stringenti ed erano in qualche modo contraddittori rispetto a quello che avevano loro proposto. Il loro stesso governo è, perché è il governo di Fratelli d'Italia questo? Gli ha detto così non va bene. Intanto sono passati 5 anni, hanno goduto solo di un fatto, dei soldi che non vengono da loro, io ricordo quando attaccavano l'Europa, poi il PNRR chi l'ha portato? Il governo Draghi, il governo Conte 2, PD 5 Stelle, se era per la Lega e Fratelli d'Italia quei soldi del PNRR non arrivavano mai, i soldi dell'edilizia sanitaria sono 700 milioni tra i 200 errotti del PNRR territorio e i 500 della rete ospedaliera, tutti fermi, perché non hanno approvato un atto? L'unico vantaggio sono ovviamente i soldi che però l'hanno lasciato di fatto parcheggiati e il fatto di non aver vissuto come nella nostra stagione in un contesto di furia iconoclasta. Io lo ricordo negli anni addietro si viveva in un contesto di furia iconoclasta, loro non l'hanno vissuto, c'è stata una cappa, c'è stata la pandemia che in qualche modo li ha aiutati, non hanno fatto nulla, hanno galleggiato, hanno raddoppiato i tempi di attesa e se la passano andando in giro per il territorio ho promosso questo ospedale sulla carta perché non c'è niente, anzi quegli stessi presidi che loro dicono di aver promosso in realtà conoscono un abbattimento clamoroso delle prestazioni. Ortona la metà delle prestazioni del 2018, per fare un esempio eclatante, ecco di questo dovrebbero rispondere, questa è la verità, questi sono i numeri che sono oggettivi, tra l'altro che mi ha fornito l'agenzia sanitaria alla cui testa c'è un personaggio nominato da Marsilio. Paolucci, ultimo tema di merito prima di fare anche un bilancio sull'attività dell'opposizione in Consiglio regionale, la Pescara Roma si farà in quali tempi e con quali fondi? Allora, si farà, punto di domanda, soprattutto in quali tempi e con quali fondi perché se ho capito bene, mi sembra che così abbia dichiarato il Presidente Marsilio solo per fare propaganda elettorale, ha spostato le risorse dal PNRR di pronto utilizzo all'FSC, cioè... Gli ha spostato il Governo, non Marsilio? No, gli ha spostato, di fatto il suo... diciamoci la verità, gli ha spostato il Governo perché Marsilio non è stato in grado di dargli un progetto e lo stesso Governo Salvini Meloni gli ha detto, Marsilio così non va questa roba qui, noi non la riusciamo ad utilizzare perché tu non hai fatto un progetto e quindi li dobbiamo spostare. Come te la vuoi vendere in campagna elettorale? Guarda, fammi un piacere, mettimilo sull'FSC, pure se arriva tra dieci anni, intanto la campagna elettorale ce l'ha adesso, imbroglia un po' gli abruzzesi nel fare un po' di propaganda e porta a casa il fatto con le chiacchiere che si farà. Questa è la verità. Tra l'altro nel fare questo ha fatto due volte danno perché le risorse del PNRR per l'Abruzzo, quindi la Pescara Roma, sono andati a una linea competitiva la nostra, la Ancona costa tirrenica. E dall'altro lato l'FSC che noi avremmo dovuto e potuto utilizzare per aumentare il nostro grado di sviluppo e di competizione, magari andando a bersagliare in modo positivo e investendo su altre infrastrutture, dovranno essere utilizzate e comunque parcheggiate per quest'altra arteria che nel frattempo conoscerà con stati di avamenzamento più rapidi verso le marche, ulteriori purtroppo destinazioni delle risorse del PNRR. Un doppio inganno, una doppia bugia solo per fare un po' di propaganda elettorale e per imbrogliare tutti. Noi non ci stiamo, lo diremo e ovviamente diremo agli abruzzesi non vi fidate di questi qua che hanno fatto solo propaganda e imbrogli in questi anni, imbrogli dal punto di vista politico, della dialettica politica. Ultima domanda, si fa il bilancio di quello che ha fatto la maggioranza, il Presidente, quindi insomma anche la vostra attività di opposizione e di contrasto in Consiglio regionale, ma c'è anche una parte della vita di un gruppo alla regione che è quella, diciamo, oltre che di opposizione, anche di proposizione, di iniziative legislative, di provvedimenti. Cosa porta a casa il Partito Democratico con la sua squadra di consiglieri al termine di questi cinque anni? Allora, intanto portiamo a caso un grandissimo valore unico in Italia, io lo voglio considerare come un fatto assolutamente positivo, l'alleanza così larga che nasce dal giudizio su Marsiglio e da una proposta che adesso insieme al candidato Presidente ribattezzeremo un patto per l'Abruzzo, un progetto per l'Abruzzo, è unica in Italia, vuol dire che le forze di opposizione hanno condiviso valutazioni, giudizi e opposizione insieme e non è un fatto diffuso. Quindi c'è la possibilità di costruire un'alternativa grazie al lavoro fatto in opposizione. E poi ci sono state innumerevoli proposte da parte nostra. Le ultime, quelle depositate da ultimo, soprattutto sul differenziale, sui gap, sulle differenze che esistono di genere e di generazione, il disegno di legge per la parità retributiva, i disegni di legge per il diritto allo studio, che non è solo il diritto allo studio, ma che è il diritto alla mobilità, per quanto ci riguarda sono dei progressi enormi. Il disegno di legge fatto sul lavoro, ecco, ciascuno di questi disegni di legge sono stati anche un po' parcheggiati da una maggioranza che era più presa dall'agire quotidiano che da una programmazione di prospettiva. Però questo lo portiamo come valore, questi disegni di legge che ho ricordato sul lavoro, sul diritto allo studio e sul differenziale di genere, come un contributo enorme anche per un nuovo progetto per la nostra regione. Bene, grazie Silvio Paolucci di aver accolto il nostro invito, di aver conversato con noi, ci vedremo ovviamente spesso, suppongo, nella prossima campagna elettorale e grazie ai nostri telespettatori. Appuntamento domani alla stessa ora.